Sindaco Gianrusso, stamattina i carabinieri sono venuti al Comune, hanno perquisito gli uffici, soprattutto quelli comunali. Ci sono quattro indagati, lei ha specificato più volte chiaramente nel comunicato stampa e nel documento della Procura, lei non è assolutamente indagato. Adesso? Non solo sono venuti al Comune, nella stanza del Sindaco, ma sono venuti anche in questa agenzia e a casa mia. Il che ovviamente non è bello, anche perché parliamo di fatti dal 2009, almeno da quello che ho letto. Io non sono indagato, però questo fatto che sono venuti anche a casa mia e alla mia agenzia mi ha dato molto fastidio, ovviamente, perché sono estraneo ai fatti. Tra l'altro non so neppure che fatti sono, ma comunque sono estraneo perché ho la coscienza appostissimo. Non lo so, quattro indagati, due tecnici esterni, un tecnico del Comune e un consigliere comunale, con un'accusa grave. Sapevo che questa sarebbe stata un'amministrazione difficile da quello che è accaduto dalla campagna elettorale in poi. Che cosa dire? Non lo so, è così a caldo, riflettiamo un attimo e poi vediamo. Però dal punto di vista personale sto con la coscienza a posto. La magistratura comunque continuerà ad indagare sui fatti che pare siano riferiti al clan egemone sul territorio. Ancora dichiarazione dei pentiti, secondo lei? Ma sicuramente, almeno da quello che si legge. Io ho piena fiducia nella magistratura, l'ho sempre avuta, anche dal primo momento. Faccio il suo corto, noi siamo a disposizione, non ho nessun tipo di problema. Sono venuti da me, già nella stanza del sindaco, io mi sono messo a disposizione. Ho aperto le porte della mia agenzia, di casa mia, senza nessun tipo di problema. Non ho nulla da nascondere. Lei pensa che quelli che sono stati indagati debbano fare un passo indietro, come forse ha già dichiarato? Ma guardi, è una questione di opportunità, l'abbiamo sempre detto, una questione di opportunità. Voglio dire, se domani dovesse risultare indagato, io mi dimetto, non ho problemi. Penso che comunque chi ha problemi in questo momento deve fare un passo indietro, se non due. Perché in questo momento è giusto, ma soprattutto in questo momento non parliamo più ormai di un caso. Ora ne è più di uno. Quindi, anche perché oltre ai quattro indagati ci sono altre venti persone che sono considerate a conoscenza dei fatti e anche le loro abitazioni sono state perquisite o saranno perquisite? Ma ci sono state tante perquisizioni. Io poi non ho capito bene se sono per fatti riguardanti concessioni edilizie, urbanistica, lavori pubblici. Questo non lo so dire. Però, insomma, se esiste effettivamente, come emerge, e io non sono stato ancora in grado di togliere questi lacci tra camorra e comune, insomma è un problema anche questo. Lei pensa che a questo punto possa insediarsi la commissione d'accesso al comune? La commissione d'accesso potrebbe anche essere, insomma, in altri comuni per molto meno, forse. Però è capire se riguardano cose del passato o oggi. Se si riferisce questa domanda a me, io pressioni non ne ho mai avute. Questo l'ho sempre detto al primo momento. Se fosse venuto una persona da me a fare pressione per una qualsiasi cosa, io sarei andato, come ho fatto anche per altre cose, dai carabinieri, senza nessun tipo di problema.